E' un nuovo episodio del Let's Play E' un nuovo episodio del Let's Play Che riguarda un vlog che vorrei fare a inizio febbraio Perché? Perché vi ho chiesto di darmi tutte le idee, tutte le domande Tutte le cose che voi abbiate in mente per me o dirette a me E di scriverle nei commenti Quindi avete tempo fino più o meno, vediamo, fino il 30 gennaio E io il 30 gennaio smetterò di prendere informazioni dai commenti Almeno per quella cosa lì E appunto inizierò a registrare il vlog Probabilmente lo inizierò a registrare il giorno dopo, non lo so ancora Quindi avete un bel po' di tempo per darmi idee Potete darmele su questo video, su un altro video Mandarmi via messaggio come volete Basta che appunto mi indiate le vostre idee, le vostre domande Eccetera, eccetera, eccetera Quindi passiamo ai commenti del giorno di oggi Il primo commento è di Sergio Sutti Che ci dà un consiglio molto molto piccolo Ma piuttosto carino, piuttosto efficiente Non ci avevo pensato E lui ci dice di piazzare nel nostro mondo i nuovi fiori Perché come prima cosa non ce ne sono E come seconda cosa renderebbe un po' più tutto bello Cosa che potrebbe essere una cosa da fare Perché se guardate il nostro landscape Ci sono solo i fiori, quelli classici, quelli rossi e quelli gialli E non ce ne sono praticamente nessuno di quelli nuovi Quindi mi sa che lo andremo a fare Quindi grazie per il commento Il secondo commento del giorno invece è di Maurizio Alta Che ci dà una piccola idea Visto che nello scorso episodio ho detto che non utilizziamo arco e frecce Appunto lui ci dice di provare a creare un super arco Da mandare in combinazione con la nostra super armatura Non ci avevo pensato quindi l'ho scelto per quello Non c'erano tantissimi commenti nello scorso episodio Appunto che mi piacevano Però questi due mi piacevano un bel po' Quindi grazie entrambi per il commento Però prima di iniziare voglio giusto dirvi di un piccolo problema Che ho avuto con il nostro mondo Forse l'avete già notato O avrete già notato qualche minore cambiamento È che per sbaglio Ho spento Minecraft senza fare save and quit eccetera eccetera E si sono risettate un paio di cose Cosa per esempio La duratura della nostra armatura se non sbaglio è cambiata Anche forse quella dei tool Non ne sono sicuro È quello che mi sembra a me Perché certe cose tipo non ci sono Per esempio ho notato che questa nostra cosa dell'inventario Potevi vedere non ci sono più tutte le cose nelle ceste Un problema che mi ha dato un po' fastidio Non è nulla di grave Le ceste in casa nostra ci sono ancora Solo tipo quelle lì sono scomparse Non è scomparso quasi null'altro Forse queste ceste quasi Quindi cose che non importano molto Però volevo almeno farvi vedere questa piccola cosa Perché era piuttosto noiosa E appunto mi sono scomparso un po' di cose Un po' di cose Ma non è nulla di così grave E appunto ora passiamo ad altro Ok allora la prima cosa che voglio andare a fare oggi È andare a vedere il segreto Che c'era nello scorso episodio 215 Che non in moltissimi hanno visto In tanti si l'hanno detto nei commenti Guardate che qua si trova nell'acqua Lo potete trovare in questa questa clip E ringrazio tutti quelli che l'hanno detto Perché significa che l'hanno trovato Ma in molti non l'avevano notato Ed è qua Potevi vedere che non era veramente così difficile E l'ho cercato di rendere il più facile possibile Non so come potevo renderlo più facile a vedere Per un'inquadratura sono anche stato così Per tipo 10 secondi E poi mi sono girato Quindi era piuttosto semplice da trovare Comunque cos'è questo piccolo pillar che ho creato qua Allora questa non è la posizione finale È solo una cosa che voglio fare con voi ora Per farvi capire quello che voglio andare a fare È una cosa che andremo ad aggiungere nella 1.8 Perché? Perché voglio andare a creare una piccola zona Dove noi possiamo diciamo entrare Dove possiamo salire verso l'alto E guardare la nostra zona Perché voglio fare questa cosa? Perché non abbiamo un vero e proprio punto alto Dove si vede bene la nostra zona E quello che vorrei fare è Provare a sfruttare i nostri blocchi di slime Allora questa è solo una teoria Non sono 100% sicuro se funzionerà oppure no E quello che vorrei fare è provare in qualche modo A lanciarmi E diciamo rimbalzare verso l'alto Grazie ad essi So che non fanno tanto ribalzo Quando ci si sale così Però se noi ci saltiamo sopra Potrebbe darci un piccolo rimbalzo E come lo andremo a fare? Quello che stavo pensando di fare io Era per salire avremo uno stream di acqua Qua appunto al centro Sì non è proprio il centro È tipo un angolino Che ci porta fino a sopra Diciamo che per ora il nostro sopra Sarà più o meno qui E qua avremo tipo una piccola basetta Dove possiamo stare Bla 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 E guardarci in giro Per vedere cosa c'è Quindi è una specie di torre di controllo Possiamo chiamarla così E appunto da qua poi voglio fare una piccola cosa Che è una specie di pathway Una specie di stradina Di proprio pochi blocchi di slime Per tipo andare da questo punto ad altri Non so se mi sono spiegato bene Quindi in poche parole Noi arriviamo qui sopra E funziona appunto da punto di vista Per la nostra zona Potete vedere che da qua anche se siamo abbastanza in basso Si vede piuttosto bene quasi tutto E poi voglio avere dei blocchi Che io posso tipo saltare Ora tipo salto Qua c'è un blocco a mezz'aria Rimbalzo su un'altra area E arrivo su un altro blocco Su un altro blocco Fino ad arrivare che ne so A un'altra Appunto un'altra torre di avvisitamento Possiamo chiamarla così Che potrebbe essere per esempio lì Oppure potrebbe essere tipo al centro della nostra casa O in qualsiasi altro punto che noi ci interessa Quindi È una cosa un po' diversa Ci ho pensato solo perché Appunto non abbiamo un vero e proprio modo Per vedere cosa c'è nella nostra zona E oh mio dio ho fatto il tiro perfetto E appunto mi piaceva come idea Perché me l'hanno anche consigliata Appunto via messaggio Quindi volevo provare ad aggiungerla Però voglio sapere cosa ne pensate di questa idea E se secondo voi dovremmo andarla a fare Oppure no Perché sì potrebbe essere un progetto Piuttosto carino da fare Però Appunto potrebbe essere anche piuttosto noioso Perché sarà praticamente ripetitivo E ci vorrà un sacco di scegliere Dove va questo blocco Dove va quest'altro Quindi appunto ditemi cosa ne pensate E appunto fatemi sapere nei commenti Ok allora La prima cosa che voglio andare a fare Vero e proprio oggi È andare a lavorare Un nuovo piccolo progetto Che andremo a creare ora Però sì Diciamo anche questo Baserà solo 1.8 Perché sto facendo così tanti progetti su di essa Perché ci sono un sacco di novità Che mi piacciono E questa è una delle principali Allora Per chi non avesse seguito lo scorso episodio Abbiamo scoperto che Nella nuova patch I nostri villager possono Sia raccogliere e distruggere il grano Sia creare del pane E passarselo fra di loro Per in qualche modo Appunto fare breeding E accoppiarsi per creare dei nuovi villager E abbiamo visto che c'è questa meccanica Che oltre a utilizzare le porte Possono anche diventare auto Decisi a appunto creare A fare altri figli E abbiamo scoperto che Appunto in un modo strano Che non ho ancora capito Appunto si possono passare Il pane fra di loro Perché per diventare Pronti per fare breeding Devono avere del pane E devono avere abbastanza pane Per se stessi E se ne hanno sia abbastanza Per se stessi E per il loro inquilino L'altro Che appunto dovrebbe far parte Della coppietta E ora questa cosa qua Non rimane perché non ho Com'è un secchio d'acqua Ma lasciamo stare Appunto Se hanno abbastanza pane Per entrambi Lo andranno a buttare Proprio così Come io droppo un item Magari non la Eh vabbè Appunto come io droppo un item Al nostro altro villager Quindi quello che sto facendo qua Ovviamente escludendo La mancanza del nostro secchiello È una piccola cosa Che vorrei fare Con questo nostro meccanismo Vorrei mettere qua Però penso che lo andremo Allargare un po' Perché un 4x4 Non mi piace per nulla Forse meglio 5x5 Così che abbiamo proprio Tutto perfetto E posso mettere l'acqua Al centro E non devo stare A fare lo CD Su tutte le forme Eccetera eccetera Perché sapete che Io odio le cose Che sono appunto Non dispari Per esempio Io diavo prima Il portale del nether Perché non si poteva fare Dispari di grandezza E ora invece si può fare Quindi voglio fare Un 5x5 Al centro Ci mettiamo Uno spazio vuoto Per poter Piazzare Il nostro cubo di acqua Il nostro secchiello E poi avremo qua Una piccola Una piccola postazione Dove andremo a mettere Poi l'altro nostro villager Che sarà quello che andrà Possiamo dire così A ricevere L'item Sotto di esso Ci andremo a mettere Un hopper Perché l'hopper È più vicino È più veloce Scusate No più vicino Sì è anche più vicino Ma non importa È più veloce A prendere gli item Che un personaggio Quindi se io butto Questo blocco in aria Potete vedere Che non viene a me Però viene rubato Dal nostro hopper E anche se mi passa Attraverso È più veloce Appunto il nostro hopper A prendere gli item Stessi Quindi qua avremo questo E poi tutto avremo Bloccato qua dentro Il nostro villager Che ci funzionerà Un po' Come da cavia Che appunto Andrà in qualche modo A Diciamo Funzionarsi Da lancio Per gli item Quindi finciamoci Un villager Ok io ho abbastanza pane Sia per me Sia per te Facciamo l'amore Ti lancio il pane Ora non passa Perché qua Non può passare Però tipo metteremo Che ne so Un blocco O qualcosa del genere Possiamo lanciare gli item E arrivano di qua E non li possiamo recuperare Ed è praticamente una farm Possiamo dirla automatica Perché alla fine È automatica Di grano Appunto un po' strana Con questo nostro Nuovo meccanismo Di villager Però Penso che funzionerà Non ne sono sicuro Forse potrebbe funzionare Anche con un meccanismo Redstone Che autoproduce il grano Ma per ora Ci basta aver fatto Questa parte qua E aver creato Questa versione Perché tanto Ci basta una cosa Automatica Ma non Che dobbiamo sempre Stare a controllare E Che ha sempre bisogno Di controllo Alle parti di redstone O che Anzi Richiede parti di redstone Perché sono un po' Superfluo In questo nostro caso Ok Prima di passare ad altro Anche oggi Per voi Ho una domanda In più oggi Ho anche Un Possiamo dire La richiesta Si Da chiedervi Un aiuto Più che altro Da chiedervi E ve lo spiegherò Dopo la domanda Allora La domanda di oggi Riguarda Quello che abbiamo Appunto visto Nello scorso episodio E Appunto riguarda Il nostro villaggio Perché Perché abbiamo visto Che ci sono tantissime strade Che sono fatte Di gravel Appunto E non sappiamo Come utilizzarle Quindi Quello che voglio Chiedervi io È Secondo voi Cosa O come Potremmo andare a utilizzare Tutta quella Gravel E O Flint Perché Se non lo sapete La gravel Si può trasformare In flint Basta piazzarla E romperla Di continuo Finché Non ricevete Tutto il flint Che volete Tranne Per delle frecce Si le frecce Sono la prima cosa Che Appunto Noi potremmo andare a fare Abbiamo già visto Abbiamo già parlato Di esse Ma non ci importa Veramente molto Però appunto Che ne so Qua nella nostra zona Stiamo utilizzando La gravel Come per le strade Ma ne abbiamo Un bel po' Adesso l'abbiamo utilizzata Quasi tutta Ne abbiamo solo 49 Però non è un problema Appunto Recuperarne Quindi Secondo voi Cosa potremo andare a fare E cosa potremo fare Con la nostra gravel Senza appunto Semplicemente Buttarla O qualcosa del genere Quindi se ci avete Un progetto O qualcosa che la potrebbe utilizzare Lasciatemelo scritto Nei commenti Perché ci potrebbe Tornare utile L'altra cosa L'altra cosa che invece Vi voglio dire È una cosa Che c'entra Con L'Attack Stupac Di cui Mi è stata consigliata Nello scorso episodio Che è quella creata Da Arctic Runner Allora Allora Probabilmente Io per quando Metterò fuori Questo video L'avrò già contattato L'avrò già Appunto Mi avrà anche forse Già risposto Però voglio che Appunto Voi Lo andiate a sollecitare Quindi se Conoscete Arctic Runner Se no Vi lascio il link Nella descrizione Quindi li faccio Anche un po' Di pubblicità Anche se sono l'ultimo Che la dovrebbe fare Perché non sono Il più conosciuto Al mondo Ma non importa Appunto Voglio che Li andate a dire Perché non fai Questo con Danifra Perché non Appunto Partecipi Ti ha invitato Blah 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 O qualcosa del genere Appunto Per sbogliarlo E Appunto Farlo partecipare A quella piccola idea Che ho spiegato Nello scorso episodio Quindi Se mi fate questo piacere Grazie grazie mille Ma Non dovete farlo Perché se Non volete rompergli Le balle O non volete Appunto annoiarvi Voi a fare Una cosa del genere Non importa Ok Allora Ci troviamo Al nostro villaggio Perché oggi Voglio finalmente Iniziare A lavorare Alle nostre mura Allora Ho fatto Il cerchio Che andremo a fare Ho deciso Che alla fine Sarà un cerchio Perfetto E ho scoperto Che L'idea Che volevo fare io Delle due colonne Principali qua Viene Proprio Perfetta Allora Andiamo un attimo Stipulare il tutto Allora La prima cosa Che voglio fare È Liberarci qua A nostra area Di sette blocchi Perché sarà La nostra entrata Quindi sette blocchi Pronti Ce li abbiamo qua E poi da qua Avremo le nostre colonne Che forse Forse non ho abbastanza Spazio per Costruire Ma speriamo di sì Quindi Quello che voglio fare È iniziare a costruire Con voi Quindi avremo Un tre qua Poi avremo Due così In diagonale Altri tre Due così in diagonale E così via Oh mio dio Ho scavato il numero Perfetto E così via Tutto Fino alla fine Poi Avremo una cosa Un po' speciale Saliremo Due blocchi Dappertutto E poi al terzo blocco Lasceremo Uno spazio Diciamo Al centro Di questi nostri Blocchi da tre Perché? Perché ora vedrete Quello che ho in mente Di fare Ed è solo un piccolo Una piccola cosa Per design Nulla Di così Effettivo O nulla Che fa qualcosa Di diverso È praticamente Utilizzare Il legno Quindi una Delle mie Combinazioni Quelle classiche Proprio Che utilizzo Spesso Perché Non so Mi dice molto Da regime Mi dice molto Da Guarda questo è un regno Che funziona È un regno Che va Non so Mi piace Mi piace Mi piace Un po' Come Come è Il colore Come vanno Insieme I colori E voglio avere Questa specie Di cosa Non so Se andremo A utilizzare Un plus Lì al centro Un più Però forse Invece di fare così Potremmo Semplicemente Lasciare così Anzi forse Mi è venuto Appena un design Un po' Migliore in mente Vediamo se Riesco a farvelo Vedere in tempo E appunto Avremo questo così Questo blocco Era un errore Ma non importa E poi avremo Così Però avremo Il contrario Di quello lì Quindi avremo Un altro cerchio E poi Al centro Avremo Il doppio blocco Di altezza Quindi qua Avremo due così Qua no E così Tutto in giro Per fare una specie Di design Piuttosto carino Ora Prima di scendere Voglio recuperare Tutti i blocchi possibili E voglio vederlo Un po' Dal basso Per vedere Come sarà Ovviamente Tutta la costruzione Di queste Non ve la farò vedere Perché saranno Piuttosto grandi E visto che Le stiamo facendo Così grandi Le voglio anche Rendere Appunto Abitabili Quindi Per le nostre mura Ora le andrò a fare dritte Giusto per Provarvi un punto Per spiegarvi Quello che andremo a fare Anzi Le facciamo curve Giusto per provarvi Che sono possibili Appunto Le avremo così E poi E poi Potete vedere Che possono continuare Così Finché La nostra curva Appunto esiste Poi se ci sono Dei punti Che magari Non possono essere Curvati perfettamente Magari li Curviamo in qualche Altro modo E qua ci potremo Camminare E le faremo Diciamo Abitabili Le faremo Camminabili Anche verso l'alto Quindi Tipo Alla fine Di questa nostra Colonna Ci sarà un'altra parte Dove Potremo andare A camminare Che probabilmente Sarà tipo Avrà la fine Tipo così Vediamo se Ho delle scale Da farvi vedere Allora avremo tipo Il nostro muro Arriva qua alla fine E poi abbiamo Un'area un po' più grande Per camminare Che sarà appunto Tutto con la grandezza Quindi Sarà così Vediamo se riesco A spiegarvelo tutto Perfettamente Perché Visualizzare queste cose Non è semplicissimo Quindi vediamo se Riesco a farvelo capire Quindi La grandezza Della nostra Della nostra Della nostra Muraio sotto Sarà di tre Quindi possiamo passare In questo blocco qua Invece Nella parte superiore Nella parte dove Ci possiamo camminare Dove è aperta Sarà di cinque E probabilmente qua ci saranno Fence O qualcosa del genere Per impedirci appunto Di cadere Quindi Un po' complicata Come cosa da capire Però è quello che voglio Andare a fare E poi Un'altra piccola cosa È che È che al centro qua Fra questi due Diagonali Non ci sarà nulla Ci saranno i nostri Cobblestone wall Non so se utilizzerò I cobblestone wall O qualcos'altro Ma non so perché Ma l'abbinazione è così Potete vedere che è piuttosto bella Non so Mi piace veramente molto Io inizierò già a fare Le entrambi colonne Per ora Le faccio di questa altezza Giusto per poter mostrare Il design E per Appunto far vedere Che abbiamo trovato Il design finale E non lo andremo a cambiare Questo ho deciso che Rimarrà Perché mi piace molto La combinazione E so che è una combinazione Molto classica Ma non importa A me piace comunque I gusti strani E nulla Io Questo Per ora Lo lascio così Non vi faccio vedere Tutta la costruzione Perché sarebbe Estremamente noioso E ripetitivo Sia per le mura Sia per le colonne stesse Però quando inizieremo A lavorare alla redstone Ve la farò vedere E appunto Vi parlerò Di quello che sono riuscito A fare O di quello che ho dovuto fare Per la nostra entrata Ok allora Per concludere questo episodio Voglio parlarvi Di un'ultima cosa Che succederà Con la 1.8 E riguarda I nostri progetti Più vecchi Allora Come avete notato Appunto Abbiamo un sacco Di progetti vecchi Che o abbiamo smesso Di portare avanti O che abbiamo deciso Di lasciare fermi Perché non utilizzavamo Oppure Progetti vecchi Che si abbiamo utilizzati Ma sono diventati Obsoleti Con il tempo Per O cambiamento Di meccaniche Del gioco O Appunto Cambiamento Dello stile Di gioco Che noi Appunto Utilizziamo Sono cambiate Sono Diventate un po' diverse Sono appunto Mutate nel tempo E quello che Appunto Vorrei fare Con questi progetti Vecchi Che ormai Sono Andati Sono decrepiti E appunto Rinnovarli E iniziare A In poche parole Proprio Rifarli da capo O almeno Utilizzare Quello che C'è già Quindi salvare Il salvabile Sì è una frase Un po' strana E appunto Da esso Poi Riuscire In qualche modo A Creare Un nuovo sistema Per esempio Che ne so Vi ricordate che c'era La cosa Che gli iron golem Forse non Non droppavano più Se non uccisi Dalla persona Ok Quella cosa è stata Revocata Però diciamo che Fosse rimasta nel gioco Saremmo dovuti andare A In poche parole Distruggere la nostra Farm di iron E trovare Appunto Un metodo Per poi Riutilizzare tutti i blocchi O per Smaltirli Diciamo in modo Veloce Però per esempio Adesso la farm di iron Invece non è più Effettiva come prima Perché Diciamo Il rate drop E il sistema Che utilizzavamo Prima Sarà probabilmente Inutilizzabile Nella prossima patch Quindi dovremo andare Per esempio Proprio per questo Nostro progetto qua A trovare un nuovo sistema Che è utilizzabile E che In qualche modo Funziona Nella nuova versione Quindi Una cosa del genere Vorrei fare Vorrei Riuscire appunto A Cambiare i progetti vecchi Per Renderli nuovi Comunque Mi dispiace dirlo Ma su questa nota Devo salutarvi Perché per questo episodio E tutto Siamo già oltre Ai 20 minuti Quindi io spero Che questo episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo Lasciate Mi piace Commentare Scrivervi E fare tutte le cose Che dicono Ogni santo e singolo episodio E vi ricordo Di rispondermi Alle domande di oggi O darmi idee Progetti Consigli Su tutto quello Che abbiamo fatto Sapete che lo apprezzo sempre E nulla Con questi saluto Bella raga Qui dare fra Grazie a tutti